2. 2. 2. 3. 5. 6. 6. 7. 9. 10. 10. 11. Sì, ma non andare avanti a riuscire a un paio di un paio. la cucina ma la buona 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 bianco ah altra come si chiama cucina come si chiama cucina c'è qualcosa con la ciuma? ma voi non hai una ciuma? la ciuma? ah buona 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 ma ti diricchieri andavo a parlare? ma quando? ah come si chiama ciuma? ma sembra un po' ma voi non hai una ciuma? e a ciuma? ah buona 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 mammu quando? ma voi non hai una giupa «Ia giupa!» ma questo vale i acciupati? abijo io ci vado i acciupati ma buona 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 non è magligno ma di venire quando? ad esempio ah devi capire notti Cosa cosa? Cosa sta facendo la gioca ? Cosa sta facendo la gioca ? Ma voi non hai gioca ? Gli ha gioca ? Abora, 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 abora buonanotte immagini ma dove chiedi hanno zattarare ma due ah come si chiama c'uva come si come si chiama c'uva come si chiama c'uva come si chiama c'uva e a giù qua ma buon apporto buon apporto buon apporto buon apporto mi ha detto ma dici le chiedi a noi lo soccervi